Lorenzo Fontana, 42enne, è il nuovo presidente della Camera dei Deputati. A spoglio ancora in corso, il candidato del centrodestra aveva già raggiunto il quorum richiesto dalla maggioranza assoluta dei voti, 222. Un accordo sul suo nome è arrivato a tarda sera dopo quello dato per certo di Molinari. E che non piace all'opposizione, tanto da manifestare la propria contrarietà con uno striscione in aula. È una scelta sbagliata, secondo noi, ed è una scelta che conferma quello che abbiamo sempre pensato. Questa è una maggioranza che si è spostata sempre più verso la destra, sempre più verso il sovranismo. Al di là della distanza tra le idee, le convenzioni politiche del presidente Fontana e delle mie, anzi, in molti casi, il fatto che siano antitetiche queste convenzioni, mi devo limitare a registrare il voto del Parlamento e a fare gli auguri di buon lavoro a Fontana. Avremmo voluto come presidente della Camera Federico Caffiero de Rau. Rispetto a Fontana abbiamo una visione per quanto riguarda valori, un quadro valoriale ben distante, però gli auguriamo comunque buon lavoro. Il centrodestra, con l'elezione del presidente del Senato, si era dimostrato disunito sollevando polemiche sulla compattezza della squadra che presto sarà al governo. Le parole di Silvio Berlusconi per i più hanno ancora il sapore amaro e a smentirle ufficialmente il presidente del Senato, la russa. A profitto dell'occasione per assicurarvi in tutta sincerità che non mi ha rivolto nessuna parola ingiuriosa. Quindi non c'è stata? Se devi stare qui non è che puoi fare pure il casino. Non c'è stata quella parola ingiuriosa perché dai figlio... Nei miei confronti no, dopo che me ne sono andato non lo so, sicuramente in ogni caso non ero indirizzo. Contestano magliette e dichiarazioni fatte sette anni fa in un altro contesto storico e quindi andiamo avanti. Non mi sembrano fatti rilevanti, l'obiettivo è quello di incominciare presto questa legislatura. Penso che bisogna fare in fretta sul governo.